Buongiorno, tra pochi giorni le famiglie a cui è nato un bambino nel corso del 2020 riceveranno a casa questo. Si chiama Besana Baby Bonus ed è un voucher dal valore di 50 euro spendibile presso le quattro farmacie della nostra città per l'acquisto di prodotti per la prima infanzia e che da oggi in poi, quindi anche per gli anni prossimi, verrà assegnato a tutti i bimbi che nascono a Besana. Questo progetto avrebbe dovuto partire, secondo programma, dal 2021, quando avremo anche la contribuzione di alcune banche della nostra città a sostegno di questo progetto. Però questo è stato un anno particolare. Allora abbiamo deciso di anticipare la validità del voucher ed è per questo che riceveranno direttamente a casa e non qui in comune le famiglie del voucher accompagnato da una mia lettera, proprio per sfidare il 2020, per guardare a quest'anno non soltanto a quello che ci ha tolto, ma anche quello che ci ha dato, che sono più di 70 bambini e per guardare avanti con la fiducia e con il sorriso di un bambino che nasce in una comunità che cresce.